No, come cazzo il tizio manich... come questo? No, go-ter. Fai tipo go-ter, ti prendi tipo go-ter e non sei considerabile negatene etero, sei solo molto strano. Dal sedere esce la cacca, dal sedere esce il latte, ma dalle palle esce la vita. Non ho mai detto queste cose, non le ho mai dette, non le ho mai dette, non le ho mai dette. Ho detto tante cose, come che la vita è come dei cioccolatini in un porno, che non sai mai quale è effettivamente cioccolato e quale ti ammerda. Ho detto tante cose strane, probabilmente bannabili, tipo al non dare delle noccioline a uno schiavo, o dagli direttamente le bucce. Cioè, ho detto tante cose nella mia vita, ma questa qui non rientra fra quelle. Quella lì non rientra fra le... dal sedere esce la cacca, dal sedere non esce il latte, ma da riparne e nasce la vita. Quella lì non l'ho detto io. Non fare tipo i post che ne so. Il mattino ha l'oro in bocca, Obama. Pokémon è una merda. Winston Churchill. Non lo so, cioè... Questo tipo di cose. Aspettate. Un attimo qua. Non so se farvi vedere, perché il 90% di riposta, sento che sono tutti censurati. Cioè, aspettate. Censurato, censurato, censurato. Censurato, censurato. All live. Censurato, 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 censurato. Forse, forse, forse sì. Censurato. Sono un cerchio verde Circle Censurato Qualcosa Censurato No Censurato No Non è censurato Arly Gid Arly Censurato 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 Io da tutti i costi C'è una facoltà appedibile Nel mondo del lavoro Anche se non mi piace C'è una facoltà che mi piace Gli universi d'Italia Bomba di merda Censurato C'è insomma C'è Raga Io giuro Non sono così Non sono così Ok Ok E sono Ogni tanto mi capita E quindi ci clicco E seguo Non ho fatto di vedere su Reddit Ma su subreddit Esclusivamente di meme Grazie a tutti Grazie a tutti